adesso preparo piccole girele con ortiche raccolte nel giardino della casa così mi sento insieme a tutti i miei parenti a casa anche insieme alla mia mamma che non c'è più che sempre cucinava queste ortiche tutto questo periodo prima di pasqua cucinavano le ortiche a casa mia e per tradizione ortodossa non si potevano mangiare nel giovedì santo il giorno prima di pasqua quando gesù è stato picchiato con le ortiche e l'estate da bere accetto adesso a casa sola ma insieme insieme con tutti i miei cari con la mia famiglia con i miei amici cucinando e pensando a tutti ho raccolto le ortiche di ovulite con sale e poi scolate e poi rosolate con cipolla e aglio un po' di pepe e poi tutto frullato bene nella pentola con un po' di farina e così il ripieno è pronto ho aggiunto un po' di formaggio e adesso così bene un po' di farina viste e poi fornito lui fango mi metto in tele al forno Grazie a tutti.